Ti posso disturbare un attimo per galatina.it Domanda, nome? Mi bastava Mattia Da dove vieni? Da Montero Caspita, sei venuto da Montano? Sì Che scuola fai? Alberghese Dove? A Legge E come hai saputo di questo concorso? Cosa? Come hai saputo di questa attività dei murales? Tramite amici E sei venuto da Montero e apposta? Eh sì, no? L'amore per l'arte allora? Sì Come si intitola il tuo murales? Qual è il titolo? Cosa, c'è scritto Cosa Non vedo scusa Cosa c'è scritto? Il mio no Ah, ho capito Adesso diamo uno sguardo assieme così si vede meglio Alcone Cosa c'è scritto il mio no Cosa c'è scritto? No Non vedo scusa Sì No Ancone